Allora, il tema di quest'anno è allegria di naufragi e noi con House of Cards ci troviamo in un ambito particolarmente strano, di allegria ce n'è davvero poca per chi ha visto la serie e in qualche modo ha avuto modo di apprezzarla e di naufragio invece ce n'è molto di più senza entrare in spoiler di alcun tipo rispetto a quelli che sono gli eventi della serie sicuramente possiamo dire che da un certo punto di vista a naufragare è una certa idea di politica a naufragare è un certo modo di considerare l'essere politico a naufragare è la fiducia che ogni cittadino elettore nel momento in cui vota e quindi nel momento in cui sceglie di farsi rappresentare dalla persona che è candidata demanda a questa stessa persona. La costruzione del mondo politico di Frank Underwood è una costruzione che non conosce vie di mezzo, non conosce altra finalità che non il successo personale del protagonista e per ottenere questo successo lui non si ferma davanti a niente. Iniziamo con la prima clip allora avete visto la festa e avete visto che cosa significa il dietro le quinte vorrei iniziare dall'ultima frase che dice Frank Underwood è benvenuti a Washington Gianluca com'è questa Washington? Quella rappresentata da Frank Underwood e quanto secondo te è vicino oppure lontana da quella realmente esistente? Benvenuti a Washington, benvenuti a Roma, benvenuti ad Atene benvenuti a Bruxelles, benvenuti nella sede del potere sostanzialmente. Io non sono un esperto di serie televisive, mi sono però un po' occupato di pensiero politico occidentale e possiamo dire che è sempre la stessa storia, fortunatamente è sempre la stessa storia, cioè un naufragio della convivenza, del potere è un potere che in qualche modo è causa del naufragio ma anche controbilanciamento. Forse il vero naufragio è quello che ci sarebbe se non ci fosse il potere e se non ci fossero quelli come Frank Underwood può darsi. Come poi un'altra scena che adesso andiamo a vedere della serie ci indica in maniera a mio avviso chiara. Adesso andiamo a vedere questa scena. Allora e qui già entriamo nel pieno della questione con una serie di elementi che vale la pena provare a mettere sul tavolo per poi discutere in maniera più a profondità. La prima cosa è, abbiamo detto, com'era questa Washington che vive Frank Underwood. Non è soltanto la Washington delle feste, ce ne avremo tante durante la serie, ma è una Washington notturna, è una Washington livida, è una Washington dove non c'è mai il sole. Ci sono gli intrighi, ci sono le lotte, ci sono i nemici, ci sono i desideri, ci sono le ansie, ma non c'è mai il sole. Non c'è trasparenza, non c'è luce, non c'è dimensione di immediatezza tra le persone. E questo è l'ambito, diciamo così, come possiamo definirlo, fisico, l'habitat in cui si trova Frank Underwood e il mondo che gli gira intorno. E poi c'è lui, c'è lui che ha una chiara visione di quello che è la sua esistenza e di come va vissuta. In una brevissima riflessione di un paio di minuti mette dentro una serie di teorie sul male, sulla sofferenza, sulla necessità e sulla libertà che in successione descrivono quella che è la sua visione del mondo. Io vi vorrei focalizzare su tre aspetti e poi proviamo ad approfondirli. Il primo è la differenziazione tra dolore e sofferenza. Per Frank Underwood il dolore ha una qualche finalità, la sofferenza invece fino a se stesse non serve. Quindi l'uno è accettabile in qualche modo e la seconda è inutile. Poi ce lo spiega però perché il primo in qualche modo è accettabile. Perché il dolore è in un certo senso, chi ha visto la serie poi lo ha capito andando avanti con le puntate, ma è in un certo senso collegato all'ambito del decidere. Perché colui che decide si porta dentro, l'altro passaggio che lui descrive nella riflessione, anche un atto di responsabilità. L'atto di responsabilità in qualche modo si porta dentro un ambito di dolore e poi sfocia in una sorta di contraddizione interessante su cui secondo me adesso varrà la pena di soffermarci. Da un lato che è la libertà, che è la libertà tanto del decisore ma paradossalmente nella visione di Frank Underwood anche per coloro che poi subiscono questa decisione e parallelamente a questa è la necessità. Cioè è come se senza la persona che accetta su di sé il dolore e la responsabilità della decisione, non ci possa essere la libertà, né per sé né per gli altri. Come si riesce a distrigare questo groviglio di rapporto tra decidere di essere liberi, decisione necessaria e decisione contingente? Spunti interessanti, molto bello quello della mancanza di questa Washington notturna, come se il potere avesse paura della luce in qualche modo, che è un tema classico anche questo, che ne dicano i tedeschi che hanno fatto invece il loro Parlamento, la cupola del nuovo Parlamento trasparente, proprio ad indicare la trasparenza del potere, anche se in quel caso si tratta della trasparenza del Parlamento, quindi del luogo decisionale pubblico. Il potere è qualcosa di diverso, di leggermente diverso. Quello che io trovo interessante, questa è la vera prima scena del telefilm, scusate se lo chiamo telefilm, ma sono insomma della generazione Happy Days e non riesco ad abituarmi al fatto che si chiamino serie tv. È la prima vera scena del telefilm, della serie, ed è una scena che dà il tono a tutto, sostanzialmente. Non solo perché si capisce subito che razza di persona sia questo Underwood che addirittura parla direttamente al pubblico, agli spettatori e che guarda in camera, quindi già infrangendo una regola base della cinematografia e della serialità televisiva. Ma poi è interessante invece, il colore viene dato dal fatto che qui emerge un tema che è la stessa modernità politica, cioè chi è il governante, cioè chi è l'uomo di potere che ha capacità di governo. E' un uomo che deve fare le stesse cose degli altri uomini? Ha la stessa moralità? Underwood qui lo dice molto chiaramente. C'è qualcuno che si deve assumere la responsabilità di fare qualcosa che gli altri non farebbero. Io non so quanti di voi o quanti di noi per non far soffrire il cane lo ucciderebbero in questo modo. Sicuramente quello che emerge è il tema di una sorta di moralità diversa del governante in quanto governante. Cioè il governante non va giù, il principe di Machiavelli sostanzialmente, no? Machiavelli diceva gli uomini, i principi devono essere buoni ma devono essere pronti, se necessitati, a entrare nel male. Lui dice proprio entrare nel male. Una specie di full immersion nel male. E un punto interessante da questo punto di vista, secondo me, è una recente intervista di Bill Clinton che ci mostra invece qualcosa di diverso. Come sapete recentemente è venuto alla luce, per usare la metafora luce tenebre, è venuto alla luce che Clinton, da presidente degli Stati Uniti, quando Osama Bin Laden era già il nemico pubblico numero uno perché non aveva ancora fatto l'attentato dell'11 settembre ma ne aveva fatti altri importanti, Bill Clinton a un certo punto viene svegliato nel cuore della notte e gli viene detto presidente abbiamo Bin Laden nel nostro mirino, se lei ci dà un ordine noi lanciamo un missile dal Golfo Persico e lo uccidiamo. Però dobbiamo decidere subito perché poi i satelliti spia perdono il segnale. C'è solo un problema, non è da solo, è in un villaggio, è nascosto in un villaggio abitato da qualche centinaio di persone, compresi bambini, compresi innocenti, compresi donne, vecchi, non sono tutti guerriglieri. Clinton, questo lo racconta Clinton, Clinton dice io non me la sentì di dare l'ordine di uccidere un colpevole uccidendo centinaia di innocenti. Ora chiaramente non è questa la motivazione, questa è la motivazione che lui ci ha dato, però questo solleva un tema. Ha fatto bene, ha fatto veramente bene a non sacrificare quegli innocenti per uccidere il colpevole. Certo se noi facessimo la contabilità adesso, sacrificare quegli innocenti avrebbe probabilmente portato ad un risparmio di vite cento volte superiore. Possiamo anche chiederci se in quel villaggio tutti effettivamente fossero innocenti. Possiamo chiederci quanti di quelli sopravvissuti sono poi morti qualche anno dopo, nelle altre rappresaglie, negli altri attentati. Quanto di quei bambini, naturalmente mi esprimo in una forma cinica, io non sono il presidente degli Stati Uniti, grazie a Dio, però la risposta che lui dà è disarmante, ho fatto quello che farebbe qualsiasi persona. Ecco allora Frank Underwood ci pone una questione, l'uomo di governo è una persona come le altre? Io sarei contento di essere presidente degli Stati Uniti, lo dico perché così nel caso in cui dovesse accadere. Il tema è diventato focale, abbiamo detto appunto che c'è un rapporto stranissimo, ambiguo, contraddittorio, coimplicantesi, tra necessità e libertà da un lato e la dimensione di sofferenza e di decisione obbligatoria che il politico è obbligato a caricare su se stesso. Un passaggio importante secondo me per provare a districare questo rapporto che caratterizza l'uomo politico è su un doppio piano che vale la pena affrontare che è quello della dimensione verbale e quello della dimensione d'azione. Una delle caratteristiche principali della politica così come è stata costruita nell'Occidente dai Greci in poi, di cui noi siamo completamente immersi in ambito tradizionale, è quello di una costruzione di un discorso politico che riesca in qualche modo, almeno a livello rappresentativo, a tenere insieme il mondo che il politico deve andare a governare, a permetterne l'esistenza. Parallelamente a questo però c'è un ambito che si discosta molto da quello che è la rappresentazione verbale, da quello che è la costruzione di un ideale in qualche modo di mondo, che è quello dell'ambito decisionale. Per tenere insieme questo mondo il politico deve decidere. Quindi racconta un mondo, paradossalmente ne vive un altro e agisce per far sì che quel mondo che lui deve vivere, continui a vivere. Allora questa dicotomia che è appunto tra la dimensione rappresentativa verbale e quella d'azione fattuale, si può in qualche modo sovrapporre a quella che abbiamo provato a definire prima, che è quella della solitudine e del dolore del decisore rispetto alla necessità della decisione? Beh, la domanda è difficile. Però innanzitutto si può dire, a mio avviso, che la parola pubblica è un'azione. Possiamo cominciare a stringere la dicotomia da questo punto di vista. I politici e gli uomini di governo decidono naturalmente, prendono decisioni, fanno cose, ma soprattutto parlano. Le democrazie che funzionano di più, in realtà, sono le democrazie in cui il dibattito pubblico è costante, è sempre più alto, rispetto a noi, e ha un valore che i tecnici chiamano performativo. Cioè, le parole riescono a trasformare la realtà. Un grande maestro di retorica del Rinascimento diceva, noi facciamo con le parole quello che non riusciremo mai a fare con le armi. Quindi, da questo punto di vista, questo iato che tu giustamente identifichi e individui, va in qualche modo ristretto. Allora, da questo punto di vista, interrogarsi sul dibattito pubblico come azione, sulla parola pubblica come azione, è interessante, è fondamentale, ci aiuta anche a capire la diversità tra la nostra democrazia, che invece è povera di parole alte e anche per dei motivi storici. Perché l'ultima volta che si tentò di utilizzare un certo tipo di retorica, andò a finire piuttosto male. Quindi, da quel punto di vista lì, c'è una specie di diseducazione alla parola pubblica che noi ci siamo imposti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Altri paesi, invece, basta citare i soliti americani, ma anche i francesi, che guarda caso hanno un sistema presidenziale, cioè un sistema in cui la parola di uno deve essere capace di indirizzare la nazione. Allora, questi sono temi che a noi, come italiani, un po' infastidiscono, no? Siamo un po' cinici, siamo un po', appunto, pensiamo che le parole stiano da una parte e i fatti dagli altri, ma in realtà quello che noi, in qualche modo, dovremmo forse imparare a vedere, e la serie televisiva ci aiuta, è che c'è un avanti e un dietro dell'azione pubblica, no? C'è un dietro che deve rimanere nascosto, perché Washington è nelle tenebre, come Roma è nelle tenebre, come l'Atene di queste settimane e la Bruxelles sono state nelle tenebre, cioè ha una resistenza a sapere tutto, sostanzialmente, e un davanti, che è il discorso pubblico, il dibattito pubblico, che ha molto a che vedere con una sorta di scienza umanistica. Nel senso che appunto tiene insieme gli uomini con le parole. Da questo punto di vista, se mi permetti, c'è un altro passo che noi non facciamo vedere, The House of Cars, in cui il braccio destro, non diamo spoiler della terza serie, però della prima serie è qualcosa, non sareste neanche qui, se non aveste visto la prima serie, c'è il braccio... nella prima serie c'è il braccio destro di Underwood, che è questo Doug, il quale a un certo punto ha questo compito di sorvegliare sostanzialmente questa prostituta, perché sa troppo, no? E lui poi si innamora della prostituta, poi la personalità di questo Doug diventa francamente strana nelle serie successive. Comunque, la cosa interessante è che lui chiede per tranquillizzarsi, a un certo punto, chiede alla prostituta che gli legga una storia, un passo, un passo qualsiasi. Allora la prostituta sull'iPad, se non ricordo male, scarica qualcosa che lui stesso indica e pochi, almeno in Italia, nessuno ha segnalato poi in realtà di che passo si tratti. Io me ne sono accorto per puro caso, proprio perché in quelle settimane stavo lavorando su quel testo. Ed è l'incipit di una delle opere di Dickens, secondo me più belle, che è La storia di due città e che appunto vorrei leggere, è molto breve, perché io ero rimasto molto impressionato da questo incipit, che secondo me è uno degli incipit più belli che abbia mai visto e che sostanzialmente potrebbe essere scritto oggi, potrebbe stare in una serie tv. Infatti stava in una serie tv. E' l'incipit, l'inizio. Erano i giorni migliori, erano i giorni peggiori, era un'era di saggezza, era un'era di follia, era tempo di fede, era tempo di incredulità, era una stagione di luce, era una stagione buia, era la primavera della speranza, era l'inverno della disperazione. Ogni futuro era di fronte a noi e futuro non avevamo. Diretti verso il paradiso eravamo incamminati nella direzione opposta. A farla breve, era quello un tempo così simile al nostro che alcune fra le voci più autorevoli, quelle che più strillavano, insistevano a giudicarlo nel bene e nel male solamente per superlativi. Allora, il romanzo poi di Dickens parla di due città, che sono Londra e Parigi, nei tempi della rivoluzione francese. E quindi sono i tempi veramente dell'ambiguità massima. Cioè tutti che vanno verso una direzione, che è una direzione buona verso il paradiso e che poi si trovano immersi nel terrore. Allora, è molto interessante che Doug, che però è un pazzo psicopatico di fatto, si senta tranquillizzato da questo racconto che diceva, mi leggeva mia madre quando ero piccolo. Ed è molto interessante che in House of Cards ci sia un riferimento diretto a Dickens, che ovviamente un pubblico anglosassone conosce benissimo. Però c'è anche un riferimento indiretto, perché non proprio questo passo, ma questo racconto è citato in uno dei più importanti discorsi pubblici americani della metà degli anni Ottanta. Chi negli anni Ottanta c'era, non tutti qua, ricorderanno probabilmente, ricorderà Mario Cuomo, il governatore di origine italiana dello Stato di New York, morto recentemente, che a un certo punto, in anni di reganismo invincibile, cercò di organizzare la resistenza democratica. E siccome Reagan spesso diceva abbiamo fatto degli Stati Uniti una città scintillante su una collina, Hollywood sostanzialmente, in un discorso memorabile Mario Cuomo dice, signor Presidente, noi non abbiamo fatto degli Stati Uniti una città scintillante, ma abbiamo fatto degli Stati Uniti il racconto di due città. Abbiamo fatto l'ambiguità, abbiamo fatto un mondo di ambiguità in cui viaggiamo verso qualcosa di migliore e non ci accorgiamo che siamo invece in un mondo miserabile. Quindi è molto interessante che ci sia questo elemento che è letterario e politico, in house of cards. Allora perché è interessante dirlo questo? Perché se noi ci facciamo caso, la politica è in qualche modo anche una forma di letteratura, da questo punto di vista. Cioè, letteratura e politica possono e devono stare insieme perché hanno entrambe la capacità di costruire dei mondi. Voi direte, sì, negli anni Ottanta o comunque nella storia, nel Rinascimento, tu sei un medievista, eccetera, però per esempio se noi prendiamo, e ti chiedo solo un ultimo riferimento, se noi prendiamo l'ultima campagna elettorale francese presidenziale, quella del 2012, sui primi quattro, diciamo, i quattro candidati più forti, nel loro discorso chiave, tre su quattro hanno citato in maniera abbastanza diffusa, e in un caso come vedremo spettacolare, Victor Hugo, che sostanzialmente è il Dickens francese, quell'uomo che è capace, che è riuscito con i suoi romanzi a creare una Francia dentro la quale, in qualche modo, non in maniera esclusiva, siamo ancora dentro. Ora, quello che a me ha colpito più di tutti, il quarto candidato era Jean-Marie Le Pen, dei quattro forti, che invece citò Giovanna d'Arco nel suo, quindi con riferimento anche questo, mitico, diciamo, letterario, ma di segno completamente diverso. Allora, letteratura e politica. Nel discorso di Mélenchon, che era uno di questi tre candidati, venne letta integralmente una pagina spettacolare di quello che Mélenchon definì il più grande romanzo populista, sottolineato, della storia, che è I Miserabili. Ho preso la citazione, perché mi faceva piacere, mi fa piacere leggerla, perché fa capire che cos'è la politica, fa capire quanto la politica possa e debba, in una certa misura, essere letteratura e come tutto questo lo troviamo in House of Cards. A un certo punto, Victor Hugo si sta parlando della rivoluzione, Victor Hugo parla in prima persona, lo scrittore, che fa una considerazione e si interroga su chi fossero quegli uomini del popolo che facevano la rivoluzione francese. Quegli uomini irsuti, leggo, Hugo Mélenchon, quegli uomini irsuti che nei giorni cruciali del caos rivoluzionario, laceri, urlanti, feroci, con la picca alta, si gettavano sulla vecchia Parigi sconvolta. Che cosa volevano? Volevano la fine dell'oppressione, la fine della tirannia, la fine della spada, il lavoro per l'uomo, l'istruzione per il fanciullo, la dolcezza sociale per la donna, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza, il pane per tutti, le idee libere, l'edenizzazione del mondo, il progresso. E questa cosa santa, buona e dolce, il progresso. Pinti all'estremo, fuori di sé, la reclamavano terribili, seminudi, con la mazza in pugno e il ruggito in bocca, erano selvaggi, sì, ma selvaggi della civiltà. Proclamavano il diritto con furia, volevano, fosse anche col terrore, con lo spavento, forzare il genere umano al paradiso. Sembravano barbari ed erano salvatori, cercavano la luce con le maschere delle tenebre. E in confronto a questi uomini, feroci ne conveniamo, ma feroci e spaventosi per il bene, ci sono altri uomini, sorridenti, azzimati, dorati, pieni di nastri di decorazioni, in guanti gialli e scarpe di vernice, che con i gomiti poggiati su un tavolo coperto di velluto all'angolo di un camino di marmo, insistono dolcemente per il mantenimento e la conservazione del passato, del medioevo, del diritto divino, del fanatismo, dell'ignoranza, della schiavitù, della pena di morte, della guerra. E glorificavano a mezza voce, con cortesia, la sciabola, il carnefice e la forca. Noi, se fossimo forzati a scegliere tra i barbari della civiltà e i civili della barbarie, sceglieremmo i barbari. Ecco, questo è Victor Hugo e questo è un discorso politico del 2012 che ci dà pienamente l'ambiguità della politica, ci dà pienamente il populismo nel quale in qualche modo anche Frank Underwood è immerso, cioè la capacità di fare discorsi pubblici, di passare all'azione e di sapere che i discorsi, come dice Giulio Cesare di Shakespeare, possono scatenare la violenza e che però la storia poi va. Scusa se ho esagerato. Allora, proviamo a riprendere le fila del discorso. Abbiamo visto che c'è una dimensione di ambiguità della politica e negli ultimi passaggi abbiamo visto che c'è una dimensione anche di naturalità. Abbiamo parlato di barbe, abbiamo parlato di dimensioni che non sono civili. Vediamo come interpreta Frank Underwood il proprio essere nella civiltà e il proprio essere politico. Nel filmato vedete che c'è l'apparizione di Claire, che è la compagna, la moglie, l'alter ego, la notte o meglio, questo è interessante se sia la notte o il giorno, comunque l'altro di ciò che è Frank, in qualunque dimensione, quando Frank è la notte lei è il giorno, quando Frank è il giorno lei è la notte. Che meriterebbe in qualche modo un filone di riflessione ma sul quale purtroppo non abbiamo tempo e modo. Invece la cosa che ci interessa sono le osservazioni successive di Frank Underwood. Come vedete c'è una forte dimensione di naturalità. C'è tutta questa metafora iniziale del gattino piccolino che gli si dà da mangiare e poi graffia. Tutta la dimensione di cui abbiamo parlato fino a questo momento, in qualche modo, cioè questa retorica di umanità che abbiamo provato a costruire e che in qualche modo sembra che connoti storicamente la malapolitica, nel momento in cui Frank sta fuori dal palco ed è libero di parlare a se stesso e agli altri, a noi spettatori che lo guardiamo nello specchio di casa, addio politica, addio retorica, tutto diventa, ritorna ad un ambito di naturalità con una notazione molto particolare secondo me dal punto di vista della riflessione che filosoficamente è interessante e che non c'è più la dimensione del noi. La malapolitica retorica, la malapolitica delle piazze, la malapolitica dei discorsi è carica di noi. C'è sempre un noi che fa qualcosa, un noi che va verso la civiltà, un noi che lotta, un noi che va verso... Frank Underwood ci dice una cosa di tutt'altro tipo, c'è un io, il suo io, e c'è un tu, c'è un altro, ci sono paradossalmente gli altri che sono plurali, ma tra l'io e gli altri c'è un abisso sul quale difficilmente si riesce a trovare un discorso comune. Allora, questo tipo di politica qui è una politica arcaica, una politica figlia della contemporaneità più contemporanea, cioè il tema che anche rispetto a quello che poi sarà il futuro che andremo a vivere, cioè noi ci troviamo da un certo punto di vista a livello politico in una sorta di continua oscillazione tra ma la necessità di diventare sempre più noi, basti pensare a tutta la riflessione sugli Stati Uniti d'Europa e parallelamente basta pensare alla vita di tutti i giorni di ognuno di noi in cui si trova in situazioni di collettività, quanto gli ambiti di collettività siano un ambito in cui difficilmente si ritrova lo spirito, egalianamente mi verrebbe da dire, che caratterizza tutti. È sempre un io che si deve confrontare contro qualcosa d'altro. Allora, questo Frank Underwood, e questa è la domanda, è arcaico o è contemporaneo più di contemporanei? Beh, innanzitutto stai ponendo la domanda a un medievista, che ha un'idea un po' particolare della contemporaneità e del passato, eccetera. Però è il tema interessante, ci sono vari temi, questo qui che tu dici è molto interessante, però anche la folla, anche il noi può essere un io, no? Il Novecento è stato anche il tentativo di fare, di interpretare l'io di queste masse, poi in realtà. Anche le folle sono dei mostri, anche le folle sono predatorie, anche i popoli hanno una loro ambiguità profonda e feroce, come dicevano appunto Dickens e come diceva Victor Hugo nei passi che abbiamo visto. Il tema interessante è questo tema anche, che si aggiunge al tuo, di questa natura predatoria dell'uomo politico. Ora, qui è detto in una maniera un po' troppo semplice, un po' troppo spettacolare, no? Però se noi consideriamo che in fondo il pensiero politico moderno comincia nel 1513, cioè esattamente cinque secoli fa, con un'opera di Machiavelli che si chiama Il Principe, che dice che l'uomo politico è mezzo uomo e mezzo bestia, allora perché? Perché ha la razionalità, perché ha quella capacità di stare insieme e poi perché ha quella natura predatoria, non solo predatoria, perché l'uomo politico deve essere un leone, deve essere un leone per sbigottire i lupi, no? Per spaventare gli altri predatori, gli altri uomini che sono come te e devono temerti, ma poi deve essere anche astuto come una volpe perché i leoni cadono nel laccio del cacciatore, perché sono forti ma non furbi, mentre la volpe è furba, no? Quindi c'è questo elemento, diciamo, di semi bestialità dell'uomo politico, che tu dici è arcaico o è moderno, è in qualche modo permanente, cioè fa parte della necessità del potere. Allora noi abbiamo intitolato naufragio, no? Il naufragio del potere, però a questo punto noi ci possiamo chiedere se si tratti veramente di un naufragio del potere che vediamo, al quale assistiamo, o se il potere proprio inteso in questo modo naufragante di Frank Underwood non sia piuttosto il rimedio al naufragio, cioè se noi facessimo, se tutti fossimo, se tutti i politici fossero come sono le persone normali, forse il disastro sarebbe irreparabile, no? Quindi la permanenza dell'essere predatorio, la permanenza dell'essere mostruoso del politico e del governante, tra l'altro lì sotto la coscia tu hai un libretto che parla esattamente di questi temi, vabbè adesso era una battuta, eccetera, l'animale politico appunto Agostino Aristotele e altri mostri medievali, cioè l'idea della mostruosità della politica è un'idea permanente, un'idea che non ci può lasciare, perché esattamente quel fenomeno costitutivo della politica. Quando noi parliamo della politica spesso come dire, in maniera nostalgica, spesso vivendo le nostalgie di altri, peraltro, io ho un'età che non mi consente di aver partecipato ad altre, prego? A De Gasperi, agli anni 70, io negli anni 70 guardavo Ufo Robo, ho nostalgia di quello, non posso avere nostalgia di una politica che francamente, vista da lontano, non mi sembra così diversa dalla politica di oggi, nei suoi moventi fondamentali. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è un elemento arcaico o moderno? È un elemento permanente, è la politica, è il potere, è il potere che reagisce al naufragio, al fatto che gli uomini senza potere si scatenerebbero come le bestie peggiori, come peggio Frank Underwood. E quindi, tutto sommato, possiamo dire che Hobbes aveva le sue ragioni. Possiamo concludere con questa notazione, così, che da putista antropologico ci allevia tutti. No, c'è un passaggio che va ancora, secondo me, analizzato un po' più a fondo, che è quello sulla capacità che hanno questi animali politici di essere persuasivi. Perché l'altro elemento che diventa fondamentale nella costruzione del personaggio di Underwood è che lui è in grado, in assoluta facilità, di dire una cosa, essere profondamente convinto che quella cosa che sta dicendo sia falsa e tuttavia essere convincente e fattivamente capace di far sì che quella cosa poi si realizzi secondo quelli che sono i suoi desideri e non quelle che sono le sue parole. A questo proposito andiamo a prendere un pezzo classico, in qualche modo, della storia del pensiero e della letteratura contemporanea, è contemporanea, questo è un lapsus molto divertente anche questo, della letteratura dei secoli passati che è contemporanea per il significato che ancora si porta dietro e che è un famosissimo passaggio di una tragedia shakespeariana diventata film con un attore che poi capirebbe da soli. Aspettiamo un attimo la grippe che... Sì, introduciamo un secondo, proprio la posizione della trama, perché altrimenti si rischia di non cogliere. Hai già detto, no? Cos'è? Quindi è meglio non dirlo? Non lo dico? Facciamo vedere, va bene, dai. Allora, siamo a Roma, a Foro, è appena stato ucciso Cesare, c'è Marco Antonio che parla. Diamo la parola a Gianluca per farci spiegare che cosa avviene da un punto di vista dell'alterazione del rapporto con la realtà nel giro di pochissimi minuti e che cosa significa questa capacità che il politico ha di ricostruire e di ritrasformare in pochissimi istanti con un utilizzo retorico molto forte quella che è la realtà che è percepita dalle altre persone. Sì, la cosa interessante di questo passo, poi io vi consiglio di leggere la tragedia di Shakespeare, perché è anche molto breve, molto comprensibile e molto densa, tra l'altro il film è veramente molto aderente, anche le battute sono praticamente identiche. La cosa interessante è che qui Marco Antonio è un perdente in entrata, no? Perché Marco Antonio è il più fedele dei cesariani, Cesare è appena stato ucciso, i congiurati si chiedono se non sia il caso di uccidere anche Marco Antonio e decidono di no, e Marco Antonio chiede di poter fare l'elogio funebre di Cesare ai rostri, quindi nella piazza pubblica di Roma. E gli viene detto sì, lo puoi fare, però prima di te parlerà Bruto, che è il leader dei congiurati, che spiegherà le motivazioni. Allora questo è il secondo discorso che troviamo nel film e nella tragedia di Shakespeare, perché il primo è stato quello di Bruto e Bruto era il figlioccio di Cesare. Quindi abbiamo una, diciamo, una doppia, un doppio tentativo di manipolare il popolo, no? Bruto che dice, io non ho mai, che qui non vediamo, non ho mai amato Cesare così tanto come nel momento in cui l'ho ucciso, ma ho amato di più Roma e Cesare voleva farsi tiranno. E allora a quel punto il popolo, eh Cesare voleva farsi tiranno, cioè... A quel punto parla Marco Antonio e fa questo discorso, che è tutta una risposta al discorso di Bruto senza voler contraddire Bruto, perché Bruto gli ha chiesto esplicitamente di non dire niente contro i congiurati e lui dice che i congiurati sono galantuomini, dicono che Cesare voleva farsi tiranno e io ieri ho chiesto a Cesare tre volte se voleva la corona di re e Cesare per tre volte l'ha rifiutato. Quindi sostanzialmente c'è una ricostruzione della realtà. La cosa interessante di questo film e ovviamente della tragedia Shakespeareana che ci sta dietro è che qui c'è veramente il significato profondo della capacità attraverso la retorica e attraverso quindi il discorso pubblico di creare dei mondi dentro i quali tutti stiamo sostanzialmente. Quindi la capacità di dare una ragione anche della violenza, perché qui siamo al cospetto di un morto ammazzato e il morto ammazzato è Giulio Cesare, non è uno qualunque, è uno come dice Marlon Brando al cui nome ieri tutti tremavamo. Quindi questo è molto interessante, anche questo è un elemento diciamo così permanente della politica. Non c'è possibilità sostanzialmente di spiegare neanche la violenza, neanche la violenza può avere quel ruolo, diciamo così, scatenatore della violenza, perché l'ultima parola del discorso di Marco Antonio, quando si rende conto che ormai il popolo è ritornato cesariano, dice la violenza è scatenata, ora si diriga dove vuole. Quindi comincia la guerra civile. Quindi la guerra civile comincia sul popolo che opta per un discorso anziché un altro. è stata in questo caso la guerra civile, poteva essere la pace e nel corso della storia abbiamo visto che tanti discorsi fondamentali, anche nel Novecento, sono stati capaci di portare a resistere alla violenza, a scatenare la violenza e a, diciamo così, addormentare la violenza a seconda delle situazioni. Poi c'è l'altra, continuando questo ragionamento, c'è il paradosso finale poi della storia è che il vincitore a Roma di tutta questa vicenda non è né Bruto né Marco Antonio, ma è Ottaviano che da un certo punto di vista si era tenuto fuori sia dall'essere anti-cesariano che dall'essere pro-cesariano e che alla fine è quello che ne trae tutti i vantaggi e davvero lì cambia la storia di Roma e non solo di Roma perché poi da lì sono successe una serie di cose. Questo tipo di intrigo lo troviamo in House of Cards. Non a caso Kevin Spacey è uno dei più grandi attori shakespeariani oggi in circolazione. Kevin Spacey dirige un teatro a Londra dove fanno solo ed esclusivamente opere di Shakespeare. Quindi tutti questi elementi, noi parliamo di Giulio Cesare, ma parliamo di Giulio Cesare di Shakespeare, non è la storia, è la ricostruzione poetica della storia. E questo tipo di, esattamente questa cosa che tu hai evocato adesso, tra i due litiganti in qualche modo c'è un terzo che è riuscito diciamo in maniera, machiavellianamente, a prevedere discosto. Cioè a vedere prima quello che poteva succedere e a beneficiarne. Quindi questo per dire come da un certo punto di vista, poi è vero che abbiamo citato poi Machiavelli che bisogna confrontarsi con la fortuna, essere animali, essere razionali, però c'è un orizzonte di imperscutabilità rispetto a quelli che sono gli elementi che anche i politici più accorti, perché in quel momento lì, in quel momento della politica di Roma, indipendentemente poi dal fatto che sia una ricostruzione poetica, Bruto e Marco Antonio erano i due capi fazione. Cioè erano gli elementi, gli uomini politici più illustri che si dovevano giocare quello che era il futuro di Roma, perché già da allora si sapeva che il gioco era o una continuazione di una repubblica ormai stanca o l'andare verso il potere di uno. Ebbene questi due che avevano in mano la città, contemporaneamente, si sono visti sfilati del loro potere da un giovinotto che al tempo era abbastanza giovane e che tutti consideravano anche di scarso carattere e di scarso valore. Abbiamo poco tempo e abbiamo il tempo per fare una cosa con una clip che non è molto legata alla serie in senso diretto, ma che ci permette di aprire un ultimo passaggio di ragionamento e di portare a conclusione l'analisi che abbiamo fatto. Possiamo andare con la clip un attimo? Che è molto divertente peraltro. Allora, la clip avete riconosciuto il protagonista? C'è Barack Obama che preso in questa sua infatuazione televisiva nei mani confronti di Out of Cards, imita l'accento da americano del sud, perché Frank Hunter Wood viene dal sud, e in qualche modo si attribuisce una primogenitura di questo accento. Allora, il gioco è molto divertente perché ci apre una serie di considerazioni. Uno, la prima va rispetto agli effetti politici che hanno opere di questo tipo. Una serie televisiva diventa il luogo in cui lo stesso presidente degli Stati Uniti, che è rappresentato in quella serie, perché si rappresenta la storia di qualcuno che governa la nazione, guarda e lui, sempre Barack, sempre Obama, in un'intervista, gli chiedono che cosa ne pensa della serie, dice bellissima, è tutto vero, tranne che a Washington non si decide in maniera così veloce. Quindi il senso che mi interessa sottolineare, e appunto vorrei poi chiederti a te, abbiamo parlato prima della dimensione letteraria, della politica che attraverso la letteratura costruisce i mondi. Ora, che paradossale sovrapposizione c'è tra l'ambito rappresentativo della politica, l'ambito rappresentativo, per intenderci, quando ognuno di noi va a votare, scegli il proprio rappresentante. Il rappresentante è quello che in Parlamento vota per tutti coloro che l'hanno eletto. Quindi, ma la politica è in qualche modo una dimensione in cui c'è un rappresentante che rappresenta. E la letteratura, allo stesso modo, ha una dimensione rappresentativa. Anche essa rappresenta un mondo. Allora, come lavorano in una sorta, perciò è molto interessante questa clip, diventa una sorta di specchio dove la rappresentazione di una storia è in grado di rispecchiare la rappresentatività della politica? Sì, anche questa è una domanda difficile. Diciamo che i nostri tempi stanno, in questo senso, creando dei punti molto stretti fra la politica e la letteratura, tra virgolette. No? Cioè, quindi, lo star system, eccetera. Questo è un caso... Io non apprezzo molto i politici che citano Underwood, perché se Underwood cita Shakespeare e Obama cita Underwood, c'è qualcosa che non funziona, no? Cioè, citi Shakespeare direttamente, no? Se Renzi cita Underwood, benissimo. Ma allora dovremmo forse citare Ugo Fo... Le ultime lettere di Jacopo Ortis sono un discorso politico che funziona ancora, fantastico, meraviglioso. Leopardi, Manzoni... Manzoni forse, diciamo, è più indigesto, però, insomma, voglio dire, no? C'è qualcosa che non funziona, c'è un cortocircuito, no? C'è un cortocircuito nei telefilm che parlano della politica e la politica che parla dei telefilm. Però questo è un cortocircuito tipico, diciamo, dei nostri tempi, perché una cosa è la rappresentanza politica che è ancora regolata, giustamente, grazie a Dio, secondo gli antichi schemi della democrazia. Una cosa è il sentirsi rappresentato, che è una cosa ben diversa, no? Cioè l'immedesimarsi, la famosa pancia della gente, eccetera, no? E questo è un processo che è cominciato a un certo punto, non sono un esperto, ma nella seconda metà del Novecento. Io ricordo, per esempio, quest'operazione che fu molto criticata perché era troppo in questa direzione, di un presidente francese che era Valéry Giscard d'Estaing, che a un certo punto, negli anni Settanta, si inventò questa cena con il cittadino. Cioè, un cittadino poteva scrivere, ovviamente era un sistema mediatico completamente diverso, quindi i cittadini potevano scrivere al presidente e invitarlo a cena. E il presidente pescava, non si sa come, uno di questi inviti e poi andava a mangiare, ripreso alle telecamere, naturalmente. Questa cosa ebbe un effetto, francamente, diciamo, surreale. Cioè, nel senso, questo presidente che ancora si muoveva con le fattezze di un presidente alla De Gaulle, che andava a mangiare nella casa di campagna, di questa famiglia di campagna, dove nessuno diceva niente, nessuno parlava, perché lì c'era il presidente, lui che cercava di fare qualche battuta con questo riportino, che all'epoca, insomma, non era così biasimevole come oggi. Però voglio dire, quello fu uno dei primi passi verso il tentativo di andare oltre la rappresentanza. E, in qualche modo, diventare rappresentazione, che è qualcosa di diverso. La cosa andò malissimo. Tra l'altro, Giscard d'Esteine non fu riletto, ovviamente non per quello, però per tutta una serie anche di crisi economiche, diamantiche, France-Afrique, c'era tutta una serie di questioni. Però, interessante, è che lì, proprio negli anni 70, diciamo, nel mezzo di questa rivoluzione culturale degli anni 70, si comincia a... e poi si arriva, come dire, a Coluche, sempre in Francia, cioè al comico che vuole diventare presidente della Repubblica, cosa che va avanti anche qui da noi in altre forme, perché noi siamo un parlamentarismo. Però è un segno dei tempi. Allora, in quanto segno dei tempi... Io, come storico, ho imparato una sola cosa, che la storia ci dice, sulla famosa, no, la storia che ci insegna, no? La storia ci insegna solo una cosa, che non ha niente da insegnarci. Cioè, ogni generazione nuova, naturalmente sta dentro una tradizione, ma ogni generazione deve affrontare le sfide che le si pongono, no? Il tema che tu evocavi della fortuna, è anche un po' quel tema lì, no? Quindi, oggi, noi siamo in un mondo in cui c'è un cortocircuito che è anche, in qualche modo, indice di democrazia, non è che dobbiamo per forza dire, non dobbiamo schifarci, naturalmente. Ricordo Yeltsin, quando ballava sul palco rock, no? Yeltsin, cioè proprio subito dopo la caduta del muro di Berlino e dell'Unione Sovietica, un uomo, diciamo, certo non tanto appealing con i nostri schemi di oggi, un po', diciamo, corpulento, che si mette a ballare come un pazzo, ubriaco, naturalmente, ma quello è un segno di tradizione, in quel contesto, che si mette a ballare come un pazzo ad un concerto rock, perché è la democrazia, bellezza, no? Quindi, questi sono degli elementi interessanti che non sappiamo, per adesso portano ad un ideale di democrazia diretta, di democrazia assoluta, no? Che, in qualche modo, sono, vorrebbero riportare la politica alla luce, farla uscire questa Washington dall'ombra e dall'oscurità, ma che rischiano esattamente di avere l'effetto contrario, cioè di oscurare, cioè di depotenziare la politica e soprattutto di depotenziare il governo che, da che mondo è mondo, deve avere i suoi arcana, deve avere i suoi misteri, deve avere il suo velo che non può essere lacerato. È un paradosso, questo è interessante, che in questi giorni, ancora una volta, si parla di Wikileaks, no? Cioè, il tentativo di far sapere quello che gli stati, in tutto, fanno, ma che non vogliono che si sappia. E questo viene visto come un elemento di democrazia. Lo è, lo è, però dall'altro lato non possiamo biasimare gli stati che tentano di fermare questo fenomeno. Tra l'altro questo è un tema che c'è anche in qualche modo in House of Cards, no? Questo qui del cyber, hacker, eccetera, eccetera. Però l'elemento è davvero, è davvero, è davvero, come dire, desiderabile una politica completamente trasparente? Cioè, la democrazia nasce in qualche modo per illuminare quell'oscurità e non ci sarà mai, come dire, troppa democrazia. Noi che non siamo né volpi né leoni dobbiamo cercare di difenderci dalle volpi e dai leoni, no? Però dobbiamo sapere che quell'elemento di mostruosità e quindi quell'elemento di opacità in qualche modo rimarrà. Grazie a Dio. Penso che con il tempo stiamo veramente agli sgoccioli. C'è qualche domanda perché secondo me è sempre importante vedere se c'è qualche ambito di riflessione che è emerso nel pubblico o vedendo la serie o anche riferita a qualche modo a quelli che sono aspetti della serie che non abbiamo trattato o delle dimensioni più o meno parallele. Dico io una cosa se non c'è c'è no il paradosso che si sta verificando sempre tornando sul ragionamento della questione della rappresentanza rappresentativa è che per stare al passo con una realtà che è sempre più costruita si va a costruire la stessa idea di politica in maniera sempre più artificiosa cioè gli ambiti di mediazione dal rappresentante al rappresentato si moltiplicano per far sì che sia sempre più evidente come avvengono i passaggi e questo voler rendere sempre più evidenti in realtà li rende sempre più finzionali per far intendere che cosa voglio dire da un punto di vista della contiguità in maniera italiana voi penso che vi immaginate tutta la questione delle fondazioni politiche no? Le fondazioni politiche perché nascono? Nascono come elementi secondari che permettono alle persone che si riconoscono in un'idea di poter svolgere attività per quella idea e che cosa viene? Che tanto è trasparente l'idea quanto è finzionale poi il risultato